Ciao investitore e benvenuti in questo nuovo video, io sono Filippo Angeloni, imprenditore e consulente finanziario indipendente. Siamo già al secondo tentativo di registrazione, perché qualcosa è andato storto nella scheda di memoria. Oggi comunque ragazzi parliamo di come investire la liquidità aziendale in eccesso nel lungo periodo, quindi non nel breve o nel medio, ma parleremo nel lungo periodo. Allora intanto se mi vedi strano, se mi vedete strano, rallentato nei movimenti, è perché finalmente ieri sono tornato ad allenarmi, ho preso una trainer privata, una bestia, mi ha distrutto, infatti sono tutto addolorato, non riesco neanche più a stendere il braccio. Comunque venendo a noi, cose serie. Allora come investire e come si investe la liquidità aziendale in eccesso nei mercati finanziari e non solo? Partiamo da qua. Allora l'azienda. L'azienda vende prodotti, servizi, un prodotto oppure un servizio, quindi in cassa, avrà dei costi, quindi dovrà pagare qualcosa, quindi costi fissi, costi variabili e così via. Se l'azienda è una massima autorità nella sua nicchia o nel suo campo, ed è facile vedere, lo vedo facilmente anche dai bilanci delle varie aziende, lavorerà le aziende con l'azienda, ovviamente la massima autorità intendo, con margini elevati, avrà tanta liquidità nei vari conti, presso più istituti di credito, più banche, e avrà molto probabilmente un buon utile, quindi avrà un grande utile, perché lavora a margini elevati. Qui qual è il problema? In Italia, qua da noi, si pagano tante tasse, ok? Quindi le persone cercano solitamente di abbassare la pressione fiscale andando a scaricare l'utile. In realtà non tutte, soprattutto chi ha SNC, cosa fa? Non reinveste in azienda, neanche un singolo centesimo, infatti poi l'azienda è destinata a fallire, facendo così, si va a distribuire tutto l'utile, ok? A fine anno. Quindi i soci si vanno a distribuire tutto l'utile. Andare a fare questo in Italia, qua da noi sono veramente pazzi con tasse, lo sai bene, non se sei un imprenditore, questo è più un video per imprenditori o aspiranti tali, chi si va a distribuire l'utile ha una pressione fiscale tra il 60% e il 70%, più verso il 70%, cosa che è veramente fuori di testa e fuori luogo, ok? Quindi è normale che tutti vanno a Dubai o all'estero, ci può stare. Altri imprenditori fanno un'altra cosa base, ok? Quindi scaricano l'utile andando a reinvestire la liquidità in azienda. Questo è giustissimo, chiaramente. Nel lungo periodo inizia ad essere difficile, però inizialmente è molto semplice, reinvesti la liquidità in azienda, la tua azienda prospera, la tua azienda cresce ed è questo che bisogna fare in realtà, ragazzi. Quindi questo è un'ottima mossa, effettivamente, solo che più avanti nel tempo inizia a diventare difficile, però le aziende effettivamente non sono vacche da mungere, ok? Non è che devi distribuire tutto l'utile, ma neanche all'estero effettivamente qualcosa o buona parte della liquidità o dell'utile la devi reinvestire in azienda, ok? Questa è la base, tutti fanno così, quasi tutti, tranne i pazzi che vanno a distribuirsi tutto l'utile senza reinvestirlo qua da noi. Pazzia a pagare un 70, ragazzi, occhio, eh, qua. Allora, successivamente cosa si può fare? Qui aprite bene le orecchie, siamo già a 3-4 minuti di video, questo quasi nessuno lo fa, quasi nessuna azienda, qua da noi ne vedo tante, ok? Qua da noi quasi nessuno lo fa, quindi attenzione ragazzi. Cosa può fare un'azienda per investire la liquidità aziendale in eccesso, quindi quella liquidità che non serve nell'immediato per spese ovviamente straordinarie o non? La può reinvestire, dopo aver fatto questo, la può non reinvestire, la può investire in bitcoin, ok? Un'azienda, un SRL, anche piccola, media dimensione, potrebbe arrivare a prendere un bitcoin, ok? Questo non tanto per finalità di investimento, ma per finalità di protezione. Questa in realtà è una buona mossa, acquisire un bitcoin, almeno un bitcoin con l'azienda, non tanto a livello fiscale in realtà, dopo ne parliamo, perché acquisire un bitcoin consente di gettare in realtà le fondamenta per l'azienda, ok? Consente anche di metterci al sicuro nel lungo periodo e di staccare un po' la nostra gestione operativa dell'azienda dal nostro settore, ok? Il settore ovviamente può andare male, ci può essere un momento o no, io riesco a diversificare nel lungo periodo, se bitcoin sale, è chiaro che alla mia azienda andrà bene, avrà delle solide fondamenta per resistere anche nei momenti più difficili. Lo si può acquistare, ovviamente questo è un video semplice, non è un consiglio finanziario, però si può acquistare gradualmente, oppure si può subito prendere, dipende da azienda ad azienda, si può subito prendere un bitcoin, lo si fa tramite exchange solitamente italiani e tramite wallet, hardware wallet, quindi più hardware wallet, però tramite un wallet multisig, quindi multifirma. Qui è fondamentale la gestione dei firmatari, perché serviranno più firme per smovimentare in futuro i bitcoin, ed è fondamentale questa gestione, ed è fondamentale anche la gestione nel caso di un decesso purtroppo in azienda, che l'azienda deve prosperare, quindi chi rimane deve riuscire comunque a smuovere questi bitcoin qua. Queste saranno le fondamenta dell'azienda, ok? ti permetteranno di resistere e di prosperare anche nel lungo periodo e di staccare, ripeto, di diversificare dal tuo settore, dalla tua attività. Fare questo non è efficiente purtroppo qua da Unitalia a livello fiscale, comunque di questo ne parleremo in maniera approfondita con un video, una live, magari più video, con un fiscalista. Comunque le plusvalenze di bitcoin in azienda vanno tutte a reddito d'impresa, quindi più avanti ti faranno le chiappe se vendi i bitcoin, ok? Perché non è efficiente a livello fiscale, entra il reddito d'impresa, sai bene, no? Che comunque, anche se non vai a distribuire l'utile, un minimo comunque si paga, no? Ok? Però è fondamentale, è fondamentale. Tutti si fermano qua, nessuno fa questo, questo passaggio. Qui ragazzi, svegliamoci perché siamo nel 2022. Fatto questo, cosa si può fare con la liquidità in eccesso? Si può operare in partecipazioni, anche qua è fondamentale operare in partecipazioni sia di aziende non quotate, che è molto molto interessante e va fatto, diversificando, sia in aziende quotate, ok? Per investire in aziende quotate serve avere ovviamente un dossier titoli aziendale e serve avere il codice lei, altrimenti non ti fanno il dossier titoli per l'azienda. È molto semplice comunque richiedere il codice lei. Le aziende, qui attenzione ragazzi, questo a livello fiscale è una bomba, questo qua per le partecipazioni, le aziende non devono investire in ETF, né in SICAV, né in certificati, né in altro, devono investire in aziende, quindi non quotate o quotate. Quindi per la parte di aziende quotate sto parlando di azioni singole, quindi le aziende, SRL, SPA, quello che sia, se vogliono avere un regime fiscale favorevole, che si chiama PEX, in realtà, e quindi consente di pagare non proprio zero, però quasi, ok? Deve avere un, nel dossier titoli, per la parte di aziende quotate, delle azioni singole, ben diversificate ovviamente. Questa è una bomba a livello fiscale, ne parleremo comunque con un avvocato, o comunque con un fiscalista, con un commercialista. Questa è veramente una bomba. Va bene lo stesso avere aziende non quotate, quindi entri con la tua azienda, entri in altre aziende non quotate. Anche qui riesci a utilizzare la PEX, quindi quella normativa fiscale favorevole. Questo è già così, è una bomba, perché tutti si fermano qua, ma fare questo può cambiare le sorti dell'azienda, soprattutto nel lungo periodo, ok? E va fatto, ragazzi. In realtà, però, non va fatto così, ok? Quindi ti direi, ma come? Hai appena detto che va fatto così? Si può fare anche così, ok? Si può fare anche così e anche con la tua SRL operativa riesci ad utilizzare questa normativa, la PEX, o comunque riesce a investire in Bitcoin, pur pagando tanto, magari in tasse più avanti, in imposte più avanti, ma quello che va fatto, effettivamente, è questo. Allora, adesso tanti, quasi tutti, hanno iniziato a parlare di holding finanziaria, va bene? Sono arrivato un po' tardi qua, però questa è la normalità, cioè si fa così. Quindi non si investe con l'azienda operativa, con la SRL operativa, neanche se è un'azienda di formazione di consulenza, quindi neanche se è un'azienda non ha costi fissi o ne ha pochi, perché comunque questa azienda può fallire, può essere aggredita da creditori, può andare male. Quindi se l'azienda fallisce, anche il Bitcoin che è messo in bilancio, anche le partecipazioni su aziende quotate non, sono a rischio, ok? I creditori vanno ad aggredire quello che c'è qua dentro. Quindi solitamente cosa si fa? La liquidità in eccesso, ovviamente, prima si va a costituire un holding finanziaria, poi la liquidità in eccesso, si passa all'holding finanziaria. Quando servirà qua della liquidità, qui si tiene poca liquidità, quando servirà della liquidità qua, è l'holding finanziaria che invia la liquidità, ok? Ed è l'holding finanziaria che fa quello che abbiamo visto prima, quindi Bitcoin e partecipazioni, lo si fa con l'holding finanziaria, perché questa se è solo per investire è normale che può essere aggredita, non può fallire così facilmente. Quindi in realtà è così che si fa. È un po' ovviamente un po' più complicato, già qui in Italia sarebbe ottimo se l'SRL, SNC iniziassero con quello che abbiamo detto nel foglio precedente, ok? Quindi questa è come si investe la liquidità aziendale nel lungo periodo. Fammi sapere ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, a breve usciremo anche con video tematici o live con un avvocato fiscalista proprio su queste tematiche, quindi PEX per aziende e anche gestione fiscali di Bitcoin in azienda. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!